Siamo... ho delle persone come tutte queste persone qua, dobbiamo continuare a vivere Fossi stato sindaco mi sarei incatenato a Roma, perché era un'emergenza, mi sarei incatenato E' il Tar del Lazio, no? E' il Tar del Lazio, cosa? E la Tasi, voi, la invierete lo stesso? Ieri, ieri, c'erano i dipendenti dell'Amiu che erano a Chakao Pumello e noi li portavamo i cassonetti e quando li abbiamo chiesto se ci davano una mano ci hanno detto noi non ci possiamo spostare Hai capito che era da prendere a bastonate Vieni con la paga pezzo di merda!